Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo recap, oggi sono qua per portarvi il recap delle streaming, della streaming, dell'ultima streaming di Crash Band di Kotlin Sin 3, oggi vi ricordo che è un canale Twitch dove streammo e probabilmente ve lo linkerò qua sotto in descrizione, comunque voi andate e fateci il follow perché ci tengo a specificare che anche quello è un mio canale, quindi vorrei che anche quello lì diventasse come il canale che ho io adesso, mi dispiace se questa settimana non ho pubblicato video ma sono stato un po' impegnato, un po' con la scuola e un po' con gli impegni miei, questa settimana ci saranno due appuntamenti quindi per recuperare l'appuntamento della scorsa settimana e di questo qua, tra l'altro una di queste dovrebbe essere anche una reaction se non sbaglio perché di puntate di Crash ne porterò una che sarà una specie di best of Crash Nient'altro, saranno tutte le clip di Crash Band di Kotlin Sin 3 e basta, io spero che questo vi sia sbagliato, vi linkerò un'altra volta di sotto il mio Twitch e basta Beh ragazzi, un like, un'iscrizione che siamo quasi arrivati ai 40 iscritti, dai ragazzi ce la possiamo fare eh Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo recap, oggi sono qua per portarvi il recap delle streaming, della streaming, dell'ultima streaming di Crash Band di Kotlin Sin 3 e oggi vi ricordo che è un canale Twitch dove streammo e probabilmente ve lo linkerò qua sotto in descrizione, comunque voi andate e fateci il follow Perché ci tengo a specificare che anche quello è un mio canale, quindi vorrei che anche quello lì diventasse come il canale che c'è io adesso Mi dispiace se questa settimana non ho pubblicato video, ma sono stato un po' impegnato, un po' con la scuola e un po' con gli impegni miei Questa settimana ci saranno due appuntamenti, quindi per recuperare l'appuntamento della scorsa settimana e di questo qua Tra l'altro una di queste dovrebbe essere anche una reaction, se non sbaglio, perché di puntate di Crash ne porterò una che sarà una specie di best of Crash E nient'altro, saranno tutte le clip di Crash Bandicoot e basta, io spero che questo vi sia finito, vi linkerò un'altra volta di sotto il mio Twitch e basta Beh ragazzi, un like, un'iscrizione che siamo quasi arrivati a 40 iscritti, dai ragazzi ce la possiamo fare eh Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video, oggi siamo qua per la nuova serie di Crash Bandicoot and Sentry E oggi partiamo dal primo Recapino, l'abbiamo, facciamo solo Recapino, anche qua su YouTube Vi ricordo sempre il like, madonna che fluo Ma si possono togliere game option, la vibrazione volevo togliere No eh Oh, me la metterete mica nel culo, bastardo Ci riesco, yes Oh, oh, oh No, 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 no Madonna che culo Mara mio, perché sei morto Madonna che stronzi Per far sto livello penso ci abbiano questo tipo adesso, sto per la costituzione Sì Io penso che mi divertirò di meno con Spiros Non lo so No, 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 no Perché penso per colp... I più bastanti Sì, i vari libri sono i più bastanti secondo me Madonna mi stava per il culo Vecchi 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 Zio porco Siamo a 38 Vecchi Non ci si diverce Non è vero Bonus Oh, Gesù non ce la farò mai Vecchi Chi Forza No Le b parti No, io vecchi non ci credo, io vecchi me ne vado, me ne vado a fare in c***o, me ne vado, adesso, adesso se sbaglio, ve lo giuro, ve lo giuro, chiudo la streaming se sbaglio, chiudo la streaming, me la sono gufata, me la sono gufata come un c***o, no, no, si devo rifare, si devo rifare, oddio, era l'uscita del primo tentativo, dai, ma come c***o si fa, ma Cristo Dio, c***o, sono caduto con morita, potevo tornare indietro, non lo sapevo, qui però che stronzi, c***o, c***o, c***o è successo, non ho capito il c***o, sì, no, però poi sono senza maschi, se riuscivo a prendere subito la gemma, dai, mi rispondiamo anche un livello per, per la streaming, ma addio, c***o, c***o, sono dovuto per forza la vita, vai a zio, prima ci sei salito, facci tua, c***o, sono caduto con morito, è colpa del , o, d' cowardice, gli ha capito i scherzi, te lo giuro che se stavolta non riesco a farli, dioo, io, ragazzi che in c***o solo, quando è maria a escr campo è stato gentile con me, dai, per favore, facciamo misericordia beh, dovrei dire che non mi ha mai passato dai, per favore dicevo che non c'è il sasso potevo perdere una maschera, era mia io bene, ok, non ho capito neanche come ho fatto da un senso ma porco ecco la madonna, ecco la madonna credo, non mi prendi la madonna no oh cavolo è una cazzata sto livello che palle è una cazzata come anche il suo masseo in realtà si può anche salire sulle corde però sinceramente se riesco con le tartarude è meglio porco di sono morto alla fine alla fine però si può giocare anche con mouse e tastiera però sinceramente secondo me è molto più ne manca uno ne manca uno vedi questi tutti nel culo nel culo nel culo oh oh e la figa che piove signori di twitch la figa che piove toys4bubbitch che è scanzo yeah che è scanzo